Il candidato del centrodestra non si espone e preferisce dialogare con il sindaco di Genova Bucci, ma il leader della Lega passerà per un saluto. Paolo da Milano non sarà al comizio di Matteo Salvini a Barriera di Milano oggi alle 18. Il candidato sindaco del centrodestra resterà a Porta Palazzo, a Combo, dove ha organizzato un dialogo con il sindaco di Genova Marco Bucci, uno dei tre appuntamenti di chiusura della campagna elettorale. Sarà piuttosto Salvini, alle 17,30, a intervenire come ospite e portare un saluto all'incontro tra l'amministratore e il candidato, per salvare almeno le apparenze. La campagna elettorale di Torino sta infatti diventando il campo di battaglia tra le due anime della Lega, quella di Salvini, tramortita dallo scandalo che ha coinvolto Luca Morisi, e quella di Giancarlo Giorgetti che è il principale sponsor di Da Milano per il quale è arrivato a Torino domenica, per un tour tra aziende e imprenditori, e per cui tornerà venerdì, ultimo giorno di campagna elettorale. Si gioca infatti, anche qui, lo scontro tra i due, Giorgetti e Da Milano, con il ministro dello sviluppo economico a raccogliere le istanze del nord produttivo a cui parla anche Da Milano il capitano più interessato al sovranismo e a cavalcare il malcontento delle periferie. Così farà anche oggi, mentre Da Milano sarà impegnato a confrontarsi con Bucci sul modello di città del futuro, Salvini, dopo il breve saluto ai due, sarà in corso Palermo, per un comizio che si annuncia dedicato ai temi cari del carroccio, sicurezza, immigrazione, contrasto allo spaccio e alla microcriminalità. Per il quartiere sarà un pomeriggio ad alta tensione. I movimenti antagonisti hanno indetto una contromanifestazione alle 17 in largo Giulio Cesare dal titolo Barriera odia la Lega. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.